Anche quest'anno lei sarà il coordinatore dell'operazione Mare Sicuro, nell'ottica però di una razionalizzazione delle risorse lavorerete congiuntamente agli uomini della polizia? Sì, come è successo anche caduto negli anni passati, nell'ottica dello spending review lavoreremo congiuntamente con gli uomini della polizia soprattutto con quelli della squadra nautica, in quanto hanno poi prontamente i mezzi per poter fare questa attività di pattugliamento con dei turni stabiliti, metteranno le loro motorette a disposizione, noi metteremo le nostre, cercheremo ogni giorno di coprire mattina e pomeriggio l'area di giustizia del compartimento mariti. A terra ci saranno le squadre, quelle nostre composte dai nostri militari che andranno a pattugliare il litorale. Chiaramente siamo sempre sul chi va là perché comunque a qualsiasi segnalazione fatta al 15.30 invieremo i nostri uomini per vedere cosa è da fare. Quanti mezzi avete a disposizione in mare? Allora in mare avremmo tre nostre motorvedette più due motorvedette della polizia di stato. A terra abbiamo tutti i nostri uomini possibili che riusciamo a reperire per fronteggiare le eventuali emergenze. Le vostre competenze ovviamente non si limitano soltanto a risolvere quelle emergenze che possono accadere in riva al mare o in alto mare ma state attenti anche molto alle coste, ad esempio alle dune. Spieghiamo anche che non si possono spianare, non si possono eliminare o cancellare dalla costa. Allora le nostre competenze sono ampie, vanno dal controllo demaniale, quindi quello prettamente sull'abusivismo edilizio oppure lo spianare le dune che sono mai patrimonio naturale, a quelle dell'ambiente. Cioè le vari inquinamenti, cercare di non svuotare la sentina in mare oppure buttare le batterie esauste o l'ossessorio del motore in mare. Non è una cosa da fare anche perché si incorrono in sanzioni penali. E quindi è sempre alta la guardia? La guardia è sempre alta, il numero blu 15-30 è sempre attivo 24 ore su 24, quindi siamo pronti a ogni tipo di situazione. Grazie a tutti.